Bitonto nel destino, il campionato d'eccellenza più indimenticabile che ci sia stato, con tanti aneddoti da raccontare. La brusca fine dell'avventura tarantina nello scorso campionato. Una grande sfida che può segnare la rinascita. C'è tanta città degli ulivi nel cursus honorum di Nicola Ragno, il nuovo mister del Bitonto Calcio. Il 53enne Molfettese prende in mano la squadra nero-verde nella stagione più anomala, paradossale e labirintica della storia secolare del pallone bitontino. Si viene dall'euforia della Serie C meritatamente conquistata sul campo, seguita dal fondo scoramento per il tragico ritorno in D per mano della giustizia sportiva. Il massimo e il minimo in pochi mesi. Si è temuto persino che il presidente Francesco Rossiello potesse lasciare il timone del veliero, ma il patron ha rilanciato con consueto piglio vincente. Il leone è stato soltanto ferito e ha tantissima voglia di tornare a ruggire su questi campi, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi non vediamo l'ora già da domenica prossima di scendere in campo e far gioire i nostri tifosi. Mister Ragno sono sicuro, il curriculum parla da sé, che anche a Bitonto tornerà a far bene. L'allenatore pluridecorato sa che l'attende un campionato durissimo, con tante corazzate agguerrite e soprattutto col problema del mercato e del tempo che fugge, in vista dell'esordio di domenica 27 settembre. Quest'anno torniamo a 28 anni, che è un altro obiettivo, un'altra categoria. Siamo in Serie D, dobbiamo fare quello che di buono si è fatto lo scorso anno. È difficile in quanto si è vinto, poi sappiamo quello che è successo, però, ripeto, vincere è difficile, riconfermarsi è ancora più difficile, però con l'aiuto di tutti, con l'entusiasmo che stanno portando, soprattutto l'entusiasmo dello staff tecnico, del Presidente, che l'ho visto dopo dei momenti un po' brutti, di rabbia. Bisogna dire grazie a questa persona, questo Presidente, che ha avuto la forza di risolvarsi, quindi io devo ringraziarlo perché mi ha dato questa possibilità, questa grande chance di lavorare qui in questa piazza. Ci siamo ritrovati ieri con pochissimi giocatori, però oggi ne sono arrivati 3 o 4, domani arriveranno altri giocatori. Cercheremo nell'arco di pochissimi giorni di costruire un gruppo importante per poter affrontare un campionato difficilissimo. Dopo l'addio di Alessandro degli Esposti, è il DS Leonardo Rubini a gestire la campagna acquisti. Registrato l'arrivo di Genchi e Pepe, incassate alle riconferme di Figliola, Zaccaria, Piarulli, Lattanza e Colella, si tengono nel mirino prospetti di Lega Pro per prendere elementi già pronti all'ardo torneo.